Ciao a tutti! Allora oggi un video, siamo tornati di nuovo all'altra inquadratura perché vi devo far vedere dei prodotti beauty e anzi mi dispiace se lo scorso video si sentiva poco ma purtroppo l'ho fatto con la fotocamera interna dell'iPhone che ha un problemino al microfono interno quindi non so cosa sia successo probabilmente per quello che si sentiva poco quindi stavolta sto registrando con l'iPad comunque ogni tanto cambio inquadratura così come mi va allora vi faccio vedere giusto due prodottini che in realtà ho acquistato il mio amore per me non li ho acquistati io che però sono prodottini in realtà che mi piacciono moltissimo allora vi prendo un attimo, va bene intanto vi faccio vedere questa che in realtà me l'hanno regalata per il mio compleanno va sempre bene insomma è sempre un regalo non me l'hanno fatta scegliere me l'hanno messa direttamente nella busta e con la scusa del regalo non mi hanno messo praticamente omaggi però va bene va bene così allora è la maschera quella in tessuto di Sephora questa è vitamina C e papaya comunque la proveriamo sicuramente buona sicuramente valida sicuramente è valida insomma illumina e c'è anche scritto qui sopra 5 minuti va bene non so se si possa riutilizzare come quelle della Garnier per intenderci però ora io non so perché non c'è scritto non c'è scritto forse c'è scritto qui dietro comunque 95% di ingredienti di origine naturale ho visto che hanno fatto anche una linea bio da bio insomma comunque quasi tutti ingredienti di origine naturale da Sephora e beh non è male ora poi magari in futuro si proverà qualcosa quindi niente vabbè qui parla della papaya però no non dice non dice in realtà quanti utilizzi ci sono quindi può essere che si possa usare solo una volta comunque la proverò sicuramente va bene va bene sempre i prodottini invece acquistati sono stati questo qui sono tutti di bene sono tutti e due di benefit allora questo qui che sarebbe il precisely my brow pencil allora io non li conosco molto ne ho sentito tanto parlare di questi prodotti sopracciglia della benefit so che sono veramente validi infatti in tanti li usano e la cosa che mi piace è che ci sono le mini taglie infatti questa è una mini taglia siccome comunque alla fine è un prodotto sopracciglia io non credo che si finisca velocemente ho preferito prendere la mini taglia anche per provarla c'è anche il gel però io non lo uso molto per cui ho preferito prendere la matita è una matita quanto ho capito vedete senza essere non c'è bisogno insomma di temperarla il che è comodo molto comodo l'unica cosa che le taglia mini ci sono poche colorazioni io ho trovato quella proprio chiara chiara poi c'era un marrone un po' più chiaro poi c'era questa che è un marrone già più scuro e poi dovrebbe esserci quella nera che però era finita quindi vabbè comunque va bene insomma va bene così vorrei aprirla con voi però ecco qui anche per vedere com'è perché io non lo... ah eccola qui ok è fatta in questo modo si ha questo tappo che è insomma una cosa proprio gigantesca e quindi girando eccola qui viene fuori mamma mia come piccola la mina non so se si riesce a capire piccolissima vabbè comunque la si usa per le sopracciglia quindi va bene lo stesso la cosa l'unica cosa che non mi piace è che non ha il la spazzolina ora non so se quella lì grande diciamo quella normale ce l'abbia comunque volevo provarla questa viene 16 euro questa piccola quella grande 30 non mi andava di spendere già 30 euro io uso quella della Sien per intenderci per le sopracciglia non ho mai truccato più di tanto le sopracciglia e mi ci trovo benissimo perché tra l'altro anche un inci ottimo quella matita costa poco ed è valida però proverò anche questa insomma se è valida comunque va bene poi lo spazzolino comunque ce l'ho per spazzolarle ce l'ho sull'altra matita l'altro prodottino è questo qui che nello scorso video ho già fatto vedere in un'altra colorazione ora non so ripeto quanto si sentisse in quel video comunque ho preso la colorazione fucsia la scorsa volta che è il numero 66 se non erro mentre questa è la 55 nude pink ce ne sono due rosate una è proprio un rosa quasi shocking cioè un rosa veramente carico molto estivo secondo me questa che è un pochino più nude infatti si chiama nude pink l'ho ripreso perché vi dico mi sono piaciuti molto io ero già l'altra volta indecisa tra questo colore e il fucsia così come di fucsia non ne ho più allora ho preso quello eccolo secondo me carinissimo oggi c'è poca luce che nel tempo non è un granché comunque è questa la colorazione vedete che è più rosata la cosa che mi piace di questo prodotto è che è molto luminoso ora qui non credo si percepisca perché sostanzialmente è un burro cacao sa di frutta e sostanzialmente vi dicevo un burro cacao però è molto scrivente e dura dura tantissimo io praticamente l'ho provato anche per mangiare e mi è rimasto sulle labbra comunque è idrata idrata veramente quindi insomma secondo me è molto carino come prodotto io adoro i prodotti labbra quindi e quindi l'ho preso sia così che fucsia ora mi piace anche il rosso sherry mi pare si chiami però vedremo in futuro niente ragazzi questi erano i miei acquistini da da sefora e vi mando un saluto e noi se li va ci vediamo in un prossimo video ciao ciao